8 anni di purgatorio conclusi domenica scorsa intorno alle ore 17. Potenza vince, Potenza fa festa, Potenza torna tra i professionisti del calcio italiano. Cavalcata terminata in maniera trionfale con una vittoria nel derby a Polo Lucano contro il Taranto. La venticinquesima affermazione in questa stagione su 33 partite giocate. Altri tre punti, altri tre gol, tutti concentrati nel primo tempo nel 3-1 finale. Russo apre per i padroni di casa, Guaita raddoppia l'enestima per la stagionale di Franza, completa l'opera. Inutile prima dello scadere la rete di Diakite per gli Ionici. Lucani dunque promossi in Serie C con una giornata di anticipo. Decima promozione in carriera per il tecnico Nicola Ragno. La seconda consecutiva dalla quarta alla terza serie dopo quella ottenuta lo scorso anno al timone del Biceglie. La sconfitta del Viviani intanto costa l'ultimo scalino del podio al Taranto scavalcato dal team Altamura in terza posizione. Tutto facile per i Murgiani al D'Angelo contro la Cenerentola Sporting Fulgor. Danna e Sant'Agnello spianano la strada ai Biancorossi di Ciro Ginestra. L'autorrete di Caldore riporta in carreggiata agli ospiti. Montemurro nella ripresa rimette le cose a posto per i padroni di casa. Altamura e Taranto si sfideranno ai play-off da decidere soltanto il fattore campo. Nell'altra semifinale invece il Cerignola, quinto classificato, giocherà in trasferta con la vicecapolista cavese. Piro tecnico 3-3 al Monterisi tra gli Ofantini e il Gravina. Murgiani avanti con Molinari su punizione prima del riposo e capaci di raddoppiare con Balzano in apertura di ripresa. Poi lo show. Longo accorcia dagli 11 metri per il Cerignola. Caruso riallunga per gli ospiti. Marinaro su punizione e lo stesso Longo in diagonale completano la rimonta dei gialloblu. Sei reti anche a Manfredonia dove vince la cavese dell'ex bitetto. La porta per i già retrocessi Sipontini rimedia al momentaneo vantaggio dei campani con Fella. Poi si scatenano i campani che firmano la goleada sino a conclusivo 5-1 con Ogiano, lo stesso Fella, Martigniello e Massimo. Vittoria esterna anche per il Sansevero al secondo successo di fila della gestione di Domenico. I gianorossi passano 3-1 a Mugnano di Napoli contro la Frattese. L'1-2 iniziale firmato da Palumbo e Formuso fa davvero male ai campani che accorciano con esposito Fulvi, Blinda. Nel finale la formazione del Sansevero che torna in corsa anche per la salvezza diretta quando manca un solo turno al termine della stagione regolare di Serie D. Tanti gol 5 anche nella vittoria esterna del Nardo ad Aversa. Prinari sul rigore, l'autorete di Gala e Ghetano firmano il colpaccio in trasferta per 3-2 dei Salentini che condannano così i padroni di cassa a disputare i play-out.